Cari pellegrini, in questi giorni si sta parlando del caso della signora Veneta Elena che ha deciso di andare in Svizzera per poter morire e quindi vedere risparmiate le sofferenze della sua malattia, un tumore ormai allo stadio quasi finale. Tutto questo ci impone di parlare di eutanasia, ovviamente lo facciamo brevemente, in maniera tale che possiamo avere delle categorie un po' interpretative da un punto di vista apologetico che ci possono aiutare. Iniziamo con la spiegazione. La parola eutanasia vuol dire dolce morte, con essa si intende la pratica di procurare la morte al fine di evitare la sofferenza di un malato. Solitamente si distinguono due tipi di pratiche eutanasiche, l'eutanasia cosiddetta attiva e l'eutanasia passiva. L'eutanasia attiva sia quando si procura direttamente la morte, per esempio con un'iniezione letale. L'eutanasia passiva invece è quando la morte viene procurata indirettamente andando a togliere al malato l'ossigeno o l'alimentazione, o delle terapie proporzionate alla gravità della malattia. Un concetto chiave per ben affrontare la questione eutanasia è quello di accanimento terapeutico, con il quale si intendono le terapie oggettivamente sproporzionate alla malattia e inutili per la sua ormai impossibile risoluzione. La morale cattolica condanna l'eutanasia, tanto quella attiva quanto quella passiva ma nello stesso tempo non ritiene giusto l'accanimento terapeutico. Molti ricorderanno il cosiddetto caso Welby del lontano 2006, in quel caso il respiratore che teneva in vita il paziente non poteva considerarsi accanimento terapeutico proprio perché il respiratore, cioè strumento che forniva ossigeno ad un malato non vicino ad una morte imminente. Tanto era vero questo che lo stesso Consiglio Superiore di Sanità ribadì in quei giorni che in quel caso non si poteva appunto parlare di accanimento terapeutico. Va da sé che si capisce facilmente il motivo per cui la dottrina cattolica sia contraria all'eutanasia. Solo Dio è padrone della vita e nessuno ha il diritto di rinunciarvi, ma è bene precisare che riguardo a questa questione il problema non è solo legato alla legge soprannaturale, ma anche a quella naturale. Cioè l'eutanasia non deve porsi solo come un peccato per i credenti, ma anche come un reato per tutti gli uomini. La questione dell'eutanasia non deve essere trattata solo da un punto di vista di legge dunque soprannaturale, proprio perché la sua illegittimità prima di essere soprannaturale è naturale. E questo per due motivi. Possiamo dire per un motivo filosofico, latamente filosofico, e per un motivo giuridico. Vediamo il motivo filosofico. Va detto che secondo il diritto naturale l'eutanasia è un assurdo, una menzogna. Non si capisce perché l'uomo che non è padrone dell'inizio della sua vita, nessuno ha avuto il privilegio di sentirsi chiedere il permesso di vivere, dovrebbe invece essere padrone della fine della sua esistenza. L'uomo non può esercitare una volontà di potenza per l'inizio della propria vita, dovrebbe invece poter esercitare una volontà di potenza per la fine della sua vita? Ma vediamo adesso il motivo giuridico. La giurisprudenza deve avere una connotazione che possiamo definire comunitarista, cioè si devono riconoscere i diritti individuali, certamente, ma nello stesso tempo si deve affermare che il singolo uomo è un essere naturalmente sociale, perché è relazionato agli altri. La sua vita non è solamente sua, ma appartiene in un certo qual modo anche agli altri. Si potrebbe fare un esempio paradossale, se volete anche ridicolo, ma che spiega. Ho bisogno dell'idraulico per aggiustare il rubinetto di casa. Ad un certo punto vengo a sapere che tutti gli idraulici del mondo hanno intenzione di suicidarsi. E no, dico io, non si può. Io ho bisogno di loro. Seppur paradossale, ridicolo e incredibile, un esempio di questo tipo ci fa capire quanto il suicidio non sia affatto un diritto, proprio perché la vita non appartiene solo al singolo, ma anche agli altri. Già Aristotele, pur essendo vissuto in un'epoca pre-cristiana, diceva che l'uomo è un essere naturalmente sociale, cioè un essere che vive nella società e che naturalmente si relaziona agli altri. Attenzione, Aristotele non diceva sostanzialmente sociale, che significherebbe che l'uomo si definisce solo ed esclusivamente nella società, né accidentalmente sociale, che significherebbe che l'uomo eventualmente possa prescindere totalmente dalla società, ma appunto naturalmente sociale. Adesso affrontiamo la questione eutanasia da un'altra angolazione, ovvero quella del perché oggi sia in aumento alla richiesta di morire piuttosto che soffrire. I sostenitori della legalizzazione dell'eutanasia si soffermano sui dati, li utilizzano anche un po' a modiclava per dare ragione alle loro tesi, senza però andare a fondo e riflettere su certi malesseri. Mi spiego, una richiesta di morte non è sempre una richiesta di voler morire veramente. Se ci si riflette è così e sono almeno tre i motivi che lo dimostrano. Primo motivo la visione efficientistica della vita, secondo motivo l'insopportabilità della sofferenza morale, terzo motivo l'insostenibilità dell'accoglienza e dell'assistenza. Per quanto riguarda il primo motivo, la visione efficientistica della vita, va detto che la cultura contemporanea tende a giudicare solo secondo i criteri dell'efficienza, del fare, dell'essere autosufficienti ed indipendenti. Una vita è degna di essere vissuta nel momento in cui è nella sua pienezza fattuale e non ontologica o morale. Insomma l'uomo sarebbe tale non in quanto uomo, ma solo quando può agire e fare. A concorrere a questo tipo di antropologia non è solo il materialismo, ma anche e soprattutto una sorta, possiamo dire, di praxismo, dove tutto deve essere in funzione della prassi, cioè in funzione dell'azione, dell'agire. Riguardo al secondo motivo, l'insopportabilità della sofferenza morale, va detto che ciò che l'uomo contemporaneo sconta è una vera e propria allergia nei confronti della sofferenza. Non tanto riguardo alla sofferenza fisica, che comunque fa molto più paura oggi che ieri, bensì per questa sofferenza, perché per questa sofferenza, cioè per la sofferenza fisica, i rimedi ci sono, basti pensare a quanti progressi ha fatto la cosiddetta terapia del dolore, quanto ciò che fa paura è la sofferenza morale, questa sì difficilmente risolvibile dei farmaci. Sapere di dover morire non è una bella cosa e non è soprattutto per chi, come l'uomo contemporaneo, non ha speranza di tipo escatologico, cioè riguardanti la vita dopo la morte. Per cui una sentenza di questo tipo, dover morire, diventa il macigno dei macigni, qualcosa di assolutamente insopportabile con cui non poter e non dover convivere nemmeno un attimo in più. E veniamo infine al terzo motivo, l'insostenibilità dell'accoglienza e dell'assistenza. Ebbene, questo terzo motivo apre questioni amplissime che vanno dalla famiglia al ruolo del malato oggi. Senza utilizzare il lessico molto spesso incomprensibile dei sociologi, mi limito a fare degli esempi. Una persona anziana, malata e non autosufficiente, ha bisogno ovviamente dell'assistenza della famiglia e dei suoi figli. Prima erano molto più diffuse le famiglie numerose e anche i figli potevano avvicendarsi nell'accudimento degli anziani. Oggi è molto più frequente che gli anziani abbiano scelto di avere un solo figlio che, non è raro, lavora dalla mattina alla sera. Stesso discorso per la nuora, caso anche questo tutt'altro che raro. Per di più questi due coniugi devono badare i loro figli. Ora rispondetemi, in questa situazione cosa penserà l'anziano malato e bisognoso di aiuto? Certamente si sentirà di peso, certamente temerà di essere relegato in un ospizio. E allora come stupirsi se chiederà di morire? Ma attenzione, questa richiesta non sarà dovuta ad un vero desiderio di morte, quanto di evitare situazioni spiacevoli per lui e per i propri familiari. Se a tutto questo si aggiunge che vanno sempre più diffondendosi le cosiddette famigliastre, divorziati che si risposano, cosa si può attendere più dalla famiglia? Nel terribile caldo dell'estate del 2003, anche la Francia patì la morte di molti anziani. Ebbene morirono più vecchietti a Parigi che nella campagna francese, eppure a Parigi fece meno caldo rispetto alla campagna. La spiegazione che diedero sociologi e medici fu che mentre a Parigi gli anziani solitamente vivono soli, nella campagna vivono con i figli e nipoti, e si sa quanto l'aspetto psicologico sia importante per reagire ai disagi di questo tipo. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi a questo canale YouTube, oppure per ricevere la newsletter quotidiana di iscrivervi sull'home page del sito Il Cammino dei Tre Sentieri o sul canale Telegram del Cammino dei Tre Sentieri. Vi saluto e vi ricordo come sempre che Dio è verità, bontà e bellezza.